La controffensiva è fallita, non hanno ottenuto niente perché anche se il molare l'ha tanto e gli aiuti l'attestamento non era sufficiente per andare avanti, non hanno ottenuto i risultati che si aspettavano. Quindi adesso il morale delle truppe, me lo immagino, il morale delle truppe ucraine che sono in due anni in prima linea, sono due anni che combattono, che sono davanti a un problema, che facciamo dopo due anni, che facciamo dopo questo inverno?